ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video questo sarà un video molto 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 semplice sarà semplicemente un video di inaudible con qualche carezza qualche tapping per rilassarvi al cento per cento e magari usarlo anche come sottofondo di qualcosa chiudetelo rilassate non lo so non lo so non lo so grazie a tutti 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 grazie a tutti